Voi condannerete Enzo Tortore. Undici anni e mezzo prima di avere un giudizio, questo a me pare assolutamente intollerabile, indegno di un paese civile. Non erano soltanto e semplicemente dei pentiti, alcuni erano dei malati mentali. Tutti quanti eravamo un poco, quantomeno, scettici. Se dicono la verità con riscontri hanno uno sconto che viene, altrimenti si fanno la stessa galera degli altri. Bisogna individuare elementi esterni del riscontro. Nessun riscontro è stato fatto. Non c'è mai il nome, il cognome, il soprannome di Enzo Tortore. Si sarebbe accertato che era Tortona e non Tortora. Per una non adeguata valutazione delle risultanze processuali, si priva un individuo della libertà personale, si scrive certamente una pagina nera per la magistratura. Succede quello che succede, Enzo Tortore viene arrestato, ammanettato, esibito come un trofeo di caccia. Oh sì, che bello, l'hanno condannato. È una cosa... Uno spettacolo anche abbastanza intercente. Erano, nella stragrande maggioranza, tra virgolette, colpevoliste. È stato attribuito veramente di tutto. Risarcimento d'anni nei confronti dei magistrati che lo avevano ingiustamente accusato e che lo avevano ingiustamente condannato. Una persona straordinaria che ha voluto combattere una battaglia straordinaria. Come è reagito quando è uscito dal carcere dove si era volontariamente preguitato. Lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. 30 anni dall'arresto, la situazione non è cambiata.